A questo punto inviterei i prossimi due ospiti, Davide Annovazzi e Gabriele Zanoni. Grazie a tutti. Abbiamo due talk, il primo è Security of the Software Supply Chain on Google Cloud e il secondo è Protecting Web Application Alloyered Approach with Google Cloud. Io farei partire direttamente la possibilità di scelta e nel frattempo cedo il microfono a Davide e Gabriele, i quali ci spiegheranno perché si dovrebbe scegliere il primo o il secondo dei talk. Come vedete in entrambi i talk sono richiamati entrambi i nomi, sia di Davide che di Gabriele. Quindi in entrambi i talk vedremo due relatori, quindi inizierebbe Davide e concluderebbe Gabriele. I talk però sono differenziati, quindi vediamo un po' sul quale ricade la scelta del pubblico. Come vedete questi faretti? Intensi. Intensi, vero? Sì, sì. Dietro c'è un ispettore FBI che fa le domande. Sì, infatti è una cosa... La musica è finita, la scelta è stata fatta, lascerei la parola a Davide ed è stato scelto Protecting Web Application. Buono speech. Grazie. Bene, innanzitutto buongiorno a tutti. Siamo davvero felici di essere qui oggi. Dopo essere venuti già nella scorsa edizione, nell'edizione classica, oggi abbiamo voluto partecipare portando un paio di punti di vista di come approcciare la sicurezza in Google Cloud. In questo speech in particolare cercheremo di affrontare un po' la tematica di come proteggere una web application utilizzando tecnologia Google Cloud. Ci presentiamo velocemente, io sono Davide, sono Security Specialist e quindi mi occupo sull'Italia di tutte le tematiche di sicurezza informatica. Con me dopo salirà Gabriele, Country Lead per la componente consultant di Mandiant. Ora, partiamo subito un po' a bomba. Non sto a raccontarvi più di tanto quanto sia effettivamente necessario andare a proteggere application e API perché lo sappiamo tutti, nel momento in cui porto online un qualsiasi applicativo, una qualsiasi applicazione, un qualsiasi layer di integrazione API, so benissimo che se non lo proteggo nella maniera corretta nel giro di 10 minuti mi hanno bucato e questa è abbastanza una certezza. Tendenzialmente andiamo a dividere un po' i tipi di attacchi in due grandi famiglie. I primi, diciamo, volumetrici, quindi tendenzialmente attacchi di distributed denial of service che possono essere livello 3, quindi sim flood, in generale tutti flood, ma anche DNS amplification o altri, o applicativi, quindi che vanno ad attaccare protocolli HTTP, HTTPS. Dall'altra parte invece abbiamo un altro set di attacchi che vanno un po' più ad indirizzare determinate vulnerabilità applicative, quindi sono tendenzialmente layer 7 e vanno a sfruttare quelle che possono essere le classiche OWASP, top 10 o similari. Esistono poi ovviamente molte altre categorie di attacchi che possono andare dal credential staffing, quindi insomma tutte quelle categorie di attacchi che sono lente per loro natura, quindi non ricadono dentro le casistiche di volumetric di DOS, ma non vanno neanche a sfruttare delle vulnerabilità per forze applicative. Quindi oggi quello che vorremmo un po' fare è andare a capire come con tecnologia Google Cloud creare con un approccio defense in depth, quindi con un approccio layer da strati, un meccanismo di difesa che possa andare a coprire un po' tutti questi attacchi. Da un punto di vista tecnologico è giusto per fare un accenno, di fronte a tutto il nostro motore di protezione si chiama Cloud Armor, che è una componente distribuita che effettua difesa da DDoS e da attacchi layer 7 e in più viene completato da un paio di altri strumenti, API, per la protezione delle API, di cui non parleremo oggi, e Recapture Enterprise invece per andare a proteggere tutte quelle che sono le casistiche di bot e in generale di frodi. Ora, partiamo un attimo con lo scenario tecnologico. Quindi il primo strato dicevamo protezione da attacchi di DOS, questo è facile, è la parte più semplice, Cloud Armor e in generale l'infrastruttura cloud di Google ti mette a disposizione una protezione anti di DOS di livello 3 out of the box. Di conseguenza esiste un meccanismo always on, quindi sul quale non è necessario effettuare alcuna configurazione, non devo fare fondamentalmente nulla, che mi va a proteggere dagli attacchi volumetrici di livello 3 e 4. Quindi, insomma, questo primo layer è abbastanza semplice da implementare. Secondo layer, l'idea è quella di dire, proviamo un attimo a capire come funziona la mia web application, quindi ho una web application, la porto online, voglio proteggerla. L'idea è quella di provare ad andare un po' a sgrossare, tra virgolette, le connessioni che possono arrivare a toccare la mia web application. Quindi posso partire magari da cose molto semplici, tipo le geografie. Se ad esempio una web application che va ad impattare solo clienti italiani, posso pensare ad implementare una regola che blocchi tutte le connessioni che non arrivano dall'Italia. Ora, questi tipi di regole sono molto grossolane e servono giusto per proteggere un po' da quello che è il rumore di fondo. L'idea però è che uno strumento come Cloud Armor è uno strumento abbastanza complesso e sufficientemente integrato con il resto delle tecnologie Google Cloud. Di conseguenza fornisce delle funzionalità di integrazione con tutta quella che è la threat intelligence che mi permettono di avere magari delle fonti che non sono banali come può essere un blocco regionale. Posso ad esempio pensare di dire blocco tutte le connessioni che mi arrivano dai nodi di uscita Tor perché mi immagino che un utente che si sta connettendo con un Tor browser difficilmente vorrà effettivamente usufruire della mia web application. Piuttosto che posso andare a bloccare quelli che sono i cosiddetti malicious IPs quindi tutte quelle liste di indirizzi IP che sono stati trovati dalla nostra threat intelligence e che sono noti per essere utilizzati all'interno di scenari d'attacco. Quindi in questo caso posso andare a costruire delle regole che vi ho riportato qui diciamo così giusto per riferimento in modo abbastanza semplice dicendo ok inizio a sgrossare tutte quelle connessioni che riescono ad arrivare alla mia web application. Ovvio che queste sono connessioni abbastanza semplici la parte difficile è che ovviamente queste qua servono appunto per tenere basso rumore di fondo non vanno effettivamente a bloccare un attaccante sufficientemente motivato ad attaccarmi. Un altro meccanismo che si può implementare per andare un po' oltre è il cosiddetto rate limiting. L'idea è quella di studiare la mia web application e andare a capire quali sono le frequenze ad esempio di numeri di click che vengono effettuati. Ad esempio se un form di login mi aspetto che venga effettuato non lo so da un singolo utente un click ogni 3, 4, 5 secondi e se invece ho un client che mi sta facendo 5, 600 chiamate al minuto probabilmente c'è qualcosa che non va quindi sarebbe bene bloccarlo. Ora questo è un meccanismo che ha un ottimo success rate e che però è semplice da implementare ma difficile da rendere efficace. Ci sono varie problematiche la prima delle quali è capire come identificare il client quindi posso utilizzare l'indirizzo IP posso utilizzare ad esempio un header specifico un cookie specifico all'interno della richiesta ricordiamoci sempre che questi sono strumenti a livello 7 quindi riescono ad entrare nel dettaglio del payload tendenzialmente la prima cosa che viene in mente di fare è utilizzare l'indirizzo IP poi ci si scontra un po' con quello che sono le practice degli internet service provider che fanno career grade NAT e quindi nascondono centinaia o migliaia anche di client dietro un singolo indirizzo IP per risparmiare indirizzi pubblici. Quindi l'idea è quella di provare magari usare delle combinazioni ad esempio se ho delle mobile app quello che si può fare è iniettare all'interno delle chiamate un cookie specifico o un header criptografico che mi permetta di identificare in maniera univoca un client e poi creare sulla base di questo delle regole di rate limiting che vanno effettivamente ad essere a quel punto efficaci. Un'altra componente per andare anche un po' oltre potrebbe essere quella di mettere in campo una protezione cosiddetta adattiva. Cloud Armor al suo interno ha un modulo di machine learning che va effettivamente a fare una mappatura del mio traffico abituale quindi mi va a creare non solo sulla base di numero medio di interazioni numero medio di connessioni ma andando a crearmi una mappatura che può andare in base all'ora del giorno al giorno della settimana al giorno del mese che va effettivamente a crearmi un pattern del traffico e in caso di insomma fuoriuscita da questo pattern quindi in caso succeda qualcosa di effettivamente strano può avvisare il mio SOC proponendo già una regola quindi una regola di Layer 7 che mi permette di andare a stoppare quello che è il traffico malevolo quindi cerca di avvertirmi in maniera proattiva. Ovvio che in questo caso funziona molto bene se ho dei picchi o delle situazioni abbastanza evidenti per attacchi appunto più di magari slow più lenti che vanno ad attaccarmi magari delle funzionalità specifiche della mia applicazione questo può essere non efficace. Un ulteriore passaggio ricordiamoci sempre che questi sono step incrementali non devo scegliere uno l'idea sarebbe quella di implementarli potenzialmente tutti ecco l'idea di uno step successivo potrebbe essere integrare Cloud Armor con Recapture in questo modo potrei fare delle regole abbastanza complesse e provare a andare a superare alcuni limiti che abbiamo incontrato nei passaggi precedenti ad esempio il fatto che nel momento in cui faccio rate limiting magari mi sono perso qualcosa e sto iniziando a bloccare dei client che in verità non dovevano essere bloccati quello che potrei fare è pensare di dire invece che dare un 404 nel momento in cui il rate limiting è stato superato quindi se io ho messo che ne so 300 click ogni minuto nel momento in cui un client supera questi 300 click invece che fargli o un red direct su una pagina vuota o un 404 diretto potrei fare un'integrazione con Recapture e dire se superi questi click ti faccio una challenge e vediamo se effettivamente sei un bot oppure magari c'è stato qualcosa diciamo una configurazione non corretta o comunque non ho identificato nella maniera corretta il client magari sono 300 client che stanno facendo richieste legittime in questo modo da un diciamo una maniera analitica perché alla fine il rate limiting sono dei numeri molto analitici riesco con un'aggiunta di una componente euristica perché Recapture ha una base euristica ad andare a ridurre il rischio di business di chiudere fuori degli utenti legittimi e andando però comunque a mantenere un ottimo livello di sicurezza quindi prendendo decisione poi sulla combinazione delle due azioni l'ultimo layer è quello diciamo più tradizionale del web application firewall quindi Cloud Armor al suo interno ha un web application firewall basato su mod security che quindi vi permette o di usare delle regole già preconfigurate curate da noi oppure di andarvi a costruire appunto tramite mod security quindi un linguaggio open source regole che vanno effettivamente a coprire quelli che sono i vostri le vostre esigenze più dedicate più specifiche della vostra web application quindi insomma l'idea è quella di provare in questo caso sono sei layer volendo si potrebbe andare magari avanti aggiungendo qualcosa di un po' più customizzato però tramite questi sei layer andare a proteggere un web application usando tutta tecnologia nativa cloud quindi senza utilizzare licenze esterne senza utilizzare tecnologie esterne bene passerei la parola a Gabriele che va un po' ad illustrarvi invece l'altro lato della medaglia diciamo come come difendere grazie Davide allora volevo anche volevo raccontarvi oggi come fare un test poi alla fine di tutti questi sistemi di protezione che vengono messi sia che siano relativi alla parte web web sia diciamo anche un pochettino più in profondità come sapete Mandiant è stata acquisita da Google Cloud a novembre dello scorso anno Mandiant utilizza informazioni riguardo a studia come le vittime sono state compromesse studia come gli attaccanti attaccano e queste informazioni vengono usate per creare delle nuove modalità ad esempio di assessment tra cui assessment di tutto quello che è la parte esposta magari su internet applicazioni web eccetera ogni anno facciamo più di 200 mila ore di incident response vuol dire se fate i conti sono quasi 20 anni di lavoro ogni anno quindi abbiamo un'ottima visibilità su tutto quello che sono gli incidenti e come gli attaccanti attaccano all'interno di Mandiant abbiamo diverse divisioni sicuramente quella di incident response è quella che è sempre sui giornali come la divisione di intelligence il team strategico è quello che effettivamente fa poi da collante tra queste divisioni e crea nuove tipologie di assessment oggi volevo raccontarvi in particolare la parte di technical assurance cioè come fare a vedere se queste mitigazioni che ho messo in piedi ad esempio sulle applicazioni web sono effettivamente efficaci sono efficaci anche magari verso attacchi logici quindi attacchi non tecnici che possono essere magari bloccati in un modo più semplice all'interno di Mandiant la divisione che fa questi servizi di technical assurance internamente la chiamiamo apt66 quindi abbiamo circa 20 numeri prima di dovergli cambiare il nome e questa divisione è quello su cui mi volevo focalizzare oggi e raccontarvi è la divisione che fa il red team ovvero utilizza le tecniche utilizzate viste davvero usate dagli aggressori e le usa contro di voi contro le vostre applicazioni web contro i vostri sistemi per andare quindi a dare il polso di quello che farebbe davvero un attaccante quindi utilizzando le stesse ttp quindi le stesse tattiche tecniche e procedure e tendenzialmente anche gli stessi tool poi andiamo a vedere in un paio di slide più avanti vi racconto il perché questo poi è particolarmente importante quindi potrebbero ad esempio simulare un attacco un attaccante ransomware con i suoi tool con le sue fasi e vedere quindi su tutto la parte di keychain qual è la visibilità che c'è in azienda rispetto a queste tipologie di attacco come diceva prima Davide è importante una parte layered molte aziende si sono focalizzate su tutto quello che è prevention sul tenere l'attaccante fuori dal perimetro ma se l'attaccante per qualche motivo è dentro nel perimetro perché ha avuto accesso alla wifi perché è fisicamente presente ad esempio negli attacchi che abbiamo gestito per difendere l'Ucraina gli attaccanti russi erano fisicamente nei loro palazzi quindi capite che quel tipo di difesa va fatta in un modo diverso e quindi vi dicevo implementiamo tutto quello che conosciamo riguardo agli attacchi e lo implementiamo in questa maniera diciamo di test questo ci porta ad utilizzare quindi informazioni di threat intelligence che come sapete Tiber Tiber il framework della banca centrale europea che dice quando fate test di sicurezza dovete essere sicuri di aver fatto un po' di threat modeling avrei capito chi sono gli attaccanti più probabili per voi e quindi puoi scegliere un provider che utilizzi queste informazioni di threat intelligence per fare dei test che abbiano senso per voi che abbiano senso per la vostra tipologia di perimetro per i sistemi che avete e questa metodologia è stata poi adottata allargata anche al di fuori del contesto finance ad esempio la Dora che è la nuova regulation sulla parte di digital operational resilience anche questa sta spingendo verso questa parte di test di red team utilizzando informazioni di threat intelligence e l'idea sarebbe quindi non solo di effettuarli una volta ma di poterli effettuare periodicamente perché ovviamente le tecniche degli attaccanti cambiano noi usiamo gli stessi tool che loro utilizzano a volte li ripacchettizziamo togliamo magari delle componenti e ne utilizziamo delle altre facendo la parte di PowerPole Team le aziende avrebbero non solo un team di red team che fa il test ma avrebbero una persona dell'incidente response che si siede con voi nel vostro SOC e vi aiuta a fare il tuning delle tecnologie vi aiuta a togliere i falsi vi aiuta a fare in modo che l'IDR vi dia quel segnale molte volte i clienti hanno i CM però nei CM arrivano tanti log poi mancano le regole di correlazione questa è una di quelle attività che fa in modo di essere sicuri di portare alla visione di un umano quell'attacco quella cosa che abbiamo visto sul campo che ha compromesso dei clienti e che è assolutamente importante da andare a gestire e questo lo possiamo fare in maniera periodica perché molto spesso ci sono anche dei drift nella security nelle configurazioni che molto spesso magari non sono note alle persone nemmeno del team di security perché magari l'IT o il team del network ha deciso che c'è un problema nel data center principale e spostiamo tutto il flusso nel data center secondario molti clienti non hanno tool di security magari nel data center secondario e si perde una certa visibilità tutta questa parte di test ci aiuta a fare il tuning sia dei processi sia delle persone sia delle tecnologie e diciamo e questo va a chiudere diciamo un po' il ciclo di dire ho implementato le soluzioni di security adesso facciamo un bel battle test e vediamo come stiamo andando grazie grazie mille Gabriele e grazie anche a Davide of course grazie oh